Di Vicenza con un 2 su 3 al tiro per lei, fino a questo momento vediamo Togliani dall'altra parte, Mioni la chiude, poi si va da Llorente che grazie a sul ferro, poi Tagliapietra riesce a recuperare l'imbalzo ma non a passare il pallone, quindi è vittima di Bernardoni, si va da Llorente in posto contro Cresantidu che prova a chiuderle la strada per il canestro. Non abbiamo purtroppo, adesso vedremo chi è subentrato sul posto, mentre intanto attacca, va vuoto il primo attacco di Mantua, ma alla fine c'è l'imbalzo di Llorente che è stato difficile ma alla fine da fuori a Llorente, fuori ancora da Monica, dentro ancora da Llorente contro il raddoppio di Cresantidu e Sturma, fuori da Llorente che prende e spara il tiro dopo un minuto quasi del secondo tempo. Si va adesso da Llorente, marcata da Mioni che prova a rendere difficile la conclusione. Bernardoni che va ancora da Togliani, Togliani contro Cresantidu, Cresantidu non vuole consentirle di dare la parola a Llorente, quindi si torna indietro da Llorente, ancora dentro da Llorente, a doppio di Sturma e Cresantidu su Llorente, Vano per 43, Mantua 42, Togliani in penetrazione, non riesce a restituire il pallone a Llorente, va da Llorente, adesso si dentro da Llorente, arriva in ritardo la chiusura di Monto. Dettori va fuori da Monica, va ancora a dare il pallone, l'ennesimo a Llorente, Llorente guida la transizione all'altra parte, poi chiude il palleggio e torna indietro da Togliani, Togliani contro Tagliapietra, Manto va a più 4, la possibilità di incrementare ancora dentro da Llorente, segna ancora a Llorente. Facile, Dettori alla fine riconsegna proprio per Togliani, Togliani palleggio sotto le gambe, poi scarico fuori ancora per Dettori che vuole andare da Llorente, Llorente arriva ad aiutare, alla fine Monica riesce ad appoggiare indietro Togliani, dentro da Dettori, ancora da Llorente, chiusa da Monaco e ancora Florenzia, Llorente. Grazie. Grazie. Grazie.